Punta la punta, e non va tanto però Qua mi fermo perché tu non andavi indietro di più perché qua finisce il muretto Oh che roba, cos'è questo cos'ha? Gira, 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 gira Ecco perché aveva i goliti bruciati questo, veramente non ne aveva più però Che roba questo No, 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 no No, 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 no E però non inquietano No, 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 no E' passata con la mela numero 4 E' passata con la mela numero 1 E' passata con la mela numero 2 E' passata con la mela numero 2 E' passata con la mela numero 24 Ha perso un pezzo Sto passata con la mela numero 6 E' passata con la mela numero 6 E' passata numero 63 E' passata con la mela numero 6 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.